Non solo pioggia e vento, il maltempo in queste ultime ore ha portato con sé anche copiosi fiocchi di neve, che hanno imbiancato integralmente la vetta del monte Gelbison, dove si trova il santuario di Novivelia, uno spettacolo mozzafiato che grazie alle immagini e video di Danilo Palmieri riusciamo ad ammirare. Un candido manto silenzioso ha gelato e mobilizzato la natura creando un'atmosfera magica e surreale, un bianco vestito, freddo e affascinante, che lascia sempre tutti senza fiato. Grazie per la visione!